Sia lodato Gesù Cristo, vi voglio invitare a partecipare insieme a noi a degli esercizi online in preparazione alla Pasqua. Noi tutti, lo sappiamo, siamo figli e figlie di Dio. Questa figliolanza è qualcosa che ci è stata data al più tardi col Battesimo. Però noi tutti possiamo chiederci come coltivare questa realtà e portarla a un vero sviluppo. Ecco, durante questi esercizi riceverete degli impulsi per comprendere più a fondo che la preghiera, in particolare la preghiera interiore, la preghiera silenziosa, secondo la tradizione carmelitana, è un cammino privilegiato proprio per poter sviluppare questa grazia della figliolanza verso Dio nostro Padre. Riceverete ogni venerdì un impulso, una mail con dei testi, un testo un po' più lungo che riguarderà il Vangelo della Domenica e testi molto brevi per ogni giorno della settimana. Iscrivetevi, non costa niente, alla pagina www.esercizi-online.carmel.at Carmel con la K, scritto con la K. Un'offerta di noi carmelitani scalzi, in particolare dei carmelitani scalzi di Parigi, che provvedono a comporre i testi, e noi dall'Austria provvediamo invece a spedirli in diverse lingue. Sono undici attualmente le lingue in cui provvediamo a mandarvi questi testi. Potete scegliere sulla pagina di iscrizione anche la lingua in cui preferite ricevere i testi. Un'altra collaborazione è con le edizioni carmelitane, edizioni OCD. Vi auguro quindi di avere un buon tempo di Quaresima e di approfondire questa bellissima realtà di essere tutti noi figli e figlie di Dio. Grazie a tutti.